Neanche il tempo di festeggiare per la vittoria schiacciante del centrodestra unito ad Alagni, con la conferma del sindaco Daniele Natalia, che il pensiero della politica provinciale viaggia già al prossimo appuntamento. In provincia di Frosinone, nella prossima primavera, insieme alle europee e probabilmente alle provinciali, ci sarà il rinnovo del comune di Cassino e sarà battaglia. Gli esponenti di Forza Italia e Lega già affilano le armi. Per Cassino la stessa visione, il centrodestra correrà unito. Lei che cosa si aspetta? Assolutamente sì. Io imporrò tutta me stessa per avere il centrodestra unito, perché Cassino è molto strutturata, i partiti sono strutturati, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, e quindi fanno politica di partito anche dentro e fuori palazzi. Siamo autosufficienti, quindi sarebbe veramente un peccato non andare uniti, ma sono sicura che Cassino andrà con un centrodestra unito. Siamo in campagna elettorale, penso da domani, perché ormai abbiamo finito tutte le campagne elettorali e a breve, tra qualche mese, si voterà anche a Cassino. E ribadisco che per Forza Italia, e io rappresento Forza Italia a Cassino, essendo il subcommissario provinciale del Sud, vorrà con tanta forza il centrodestra unito. È chiaro, siamo ad un anno di distanza, io sono convinto che l'unità del centrodestra alla fine prevalga al di là degli schieramenti, sono convinto anche che il candidato sindaco, se non si troverà una quadra, potrà essere adottato anche l'istituto delle primarie. L'abbiamo fatto a Frosinone, città capoluogo, ha funzionato, quindi anche per Cassino andrebbe bene. Aspettiamo ancora, è ancora molto presto, però è chiaro che una base di elaborazione di un progetto politico va calata giù sin dai primi giorni della prossima settimana.